Il presidente statunitense Donald Trump nel 2017 è stato oggetto di un'indagine dell'FBI per accertare se abbia o no lavorato per la Russia. E quanto rivela il New York Times, secondo cui l'inchiesta sarebbe confluita in quella condotta dal procuratore speciale Robert Mueller sulle presunte influenze russe sulla campagna elettorale presidenziale del 2016. Commentando la notizia, lo stesso Trump sottolinea che l'indagine è partita dopo che dalla Casa Bianca era stato deciso il licenziamento del direttore dell'agenzia, James Comey. Secondo le indiscrezioni, l'inchiesta sarebbe divisa in un filone spionistico e uno criminale. Il primo dovrà verificare se Trump abbia consapevolmente o inconsapevolmente lavorato per Mosca. Il secondo se abbia deciso la rimozione di Comey per ritorsione, intralciando così la giustizia. L'indagine di Mueller ha finora fatto finire sul banco degli accusati diversi collaboratori di Trump, alcuni dei quali condannati a pene detentive.